Amici, ho saputo che in Italia gli ultraottantenni che vogliono fare il vaccino devono registrarsi, la ritengo follia digitale, registrarsi su un sito che peraltro funziona in modo pessimo, quindi assolutamente inusabile e non è colpa dell'ultraottantenne che non riesce a entrare, non riesce a usarlo, ma è colpa di chi l'ha progettato. Ma il vero punto è che io vivo in un paese in Inghilterra dove gli ultraottantenni e le altre fasce sono chiamate perché lo Stato, come quello italiano, sa benissimo chi sono i settantenni, i sessantenni, eccetera, eccetera, quelli che hanno esigenza di vaccinarsi o che possono essere vaccinati. Quindi farli scrivere è un modo pretenzioso di usare il digitale che non serve a niente, anzi fa anche il danno che oltre a non permettere loro di arrivare facilmente al vaccino, perché questo discrimina quelli, come dire, in grado di arrivare alla fine di quel processo folle da quelli che non sono. Magari qualcuno di quelli in grado, semplicemente ha un parente in grado di aiutarli, ma magari loro non lo sono. Quindi questo è un danno oltre a, ovviamente, i poveri ultraottantenni, ma è un danno anche al digitale in generale, perché usarlo male e fare le cose fatte male significa poi far pensare alle persone che quel mezzo funzioni male, in realtà è il modo in cui viene utilizzato. Per cui sappiate che, in teoria, avrebbero potuto evitare di far registrare le persone, ma, come dire, avrebbero potuto chiamarle direttamente. Esattamente come avviene in un paese in fondo simile dal punto di vista della quantità, della popolazione, eccetera, come l'Inghilterra.